Ciao, mi mancavate? Come è che non arrivano? Come è che non arrivano? Ciao Luto. Carmen mi racconti qualcosa mentre mesci il vino? La titolare è lei, la signora del vino è lei. Allora che cosa è? La Rita, la Rita Fontanara è lei. Ho una piccola cantina in fratto di Vecchino, provincia di Benevento, è in bottiglia solo ciò che provo, credo che questa sia la cosa importante perché il vino si fa in vigna e non in cantina, cosa che purtroppo non è importante.